L'anno è stato molto intenso, abbiamo lavorato tantissimo, ci siamo impegnati, però non tocca a me dirlo. Abbiamo lavorato sia sotto il profilo della prevenzione, con il controllo del territorio, attenzionando soprattutto quelli che sono i quartieri a rischio della città, parliamo della Palmara, parliamo di Bisconte, parliamo della zona alta della via Palermo. Il nostro obiettivo era dare maggiore percezione della sicurezza. Credo ci siamo riusciti, i numeri dei nostri controlli ci dicono questo. Siamo passati da oltre 50.000 controlli nel 2021 a quasi 100.000 controlli, quindi questo ci rende felici. Ed è un'attività di controllo che proseguirà, lei ha detto poc'anzi, istituiremo un camper a Piazza Cheroli. Sì, istituiremo un camper, questo ancora proprio in virtù di quell'obiettivo che vi ho detto di dare percezione alla sicurezza. Sarà un camper che già esiste, già c'è, già è attivo e già è operativo e che tratteremo anche dopo le feste ovviamente. Un altro passaggio che lei ha fatto poc'anzi a cui pensiamo tenga molto è quello della violenza di genere, l'attività che state facendo sulla violenza di genere. Sì, è un'attività anche quella molto impegnativa, noi seguiamo i casi di violenza dal primo momento del nostro intervento fino alla fase dell'ascolto e poi all'attività investigativa coordinata dalla Procura che ci ha portato anche qui dei buoni risultati perché diversi sono stati gli allontaneamenti urgenti alle case famiglie, gli arresti domiciliari e in alcuni casi anche le custodie cautelari. Polizia di Stato e scuola, il rapporto, la presenza della Polizia di Stato all'interno delle scuole? Sì, in questo settore inizieremo a gennaio, in attuazione della campagna pretendiamo legalità, abbiamo già previsto una serie di incontri nelle scuole, nelle scuole di ogni ordine e grado con i ragazzi perché sappiamo bene che la legalità deve essere già sindaco e anche di scuola conosciuta.